Torre Oca, all'ultima curva, davanti alla torre, va giù, anche alla torre, dunque vince il cavallo scosso! Un evento unico al mondo, nulla è prevedibile, nulla è scontato, l'eccezionale festa del Palio è tornata. Tre giri di pista, un unico vincitore. Il Palio di Siena. Venerdì 16 agosto, alle 16.45, in esclusiva sulla 7.